Marco Cappato, ex europarlamentare deputato dell'Associazione Luca Cossoni, ha fatto tappa oggi nel capoluogo ai tavoli referendari che stanno raccogliendo da tempo ormai le firme per chiedere l'etanasia legale. In Abruzzo, da inizio campagna referendaria, sono state raccolte 11.425 firme. In Italia sono state già ampiamente superate le 500.000. All'Aquila e provincia sono state raccolte 3.455 firme. In provincia di Teramo, 3.277. In provincia di Pescara, 1.290. In provincia di Chieti, 3.408. Per Cappato firmare un atto di civiltà e al di là della politica che per lui non ha fatto nulla, la gente, anche in base al proprio vissuto, sta decidendo di firmare. Andiamo avanti perché è importante anche informare, discutere sull'importanza di essere liberi di scegliere fino alla fine della vita. La gente ha vissuto direttamente questo problema e quindi anche se la politica dei grandi partiti è completamente assente, le persone firmano perché riconoscono nel proprio vissuto personale, in quello che hanno magari dovuto fare in famiglia, a fianco a un malato terminale, l'urgenza di poter finalmente sostituire a un'eutanasia clandestina, a una sofferenza subita come una tortura, delle buone regole per aiutare i malati, ovviamente a vivere, a essere curati quando si può fare qualcosa, ma anche a rispettare eventualmente la volontà di terminare la propria vita senza soffrire quando questa è la scelta della persona. Il referendum ha l'obiettivo di abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l'introduzione dell'eutanasia legale in Italia. Con l'intervento referendario, l'eutanasia sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico. L'eutanasia attiva è vietata, come si sa dal nostro ordinamento, sia nella versione diretta che indiretta.